Francesco Monchiero, produttore e presidente di Piemonte Land of Wine, che è questo super consorzio che raggruppa tutti i consorzi di vitivinicoli del Piemonte, insomma da Tokyo alla Duia d'Asti, insomma il balzo è breve o no? No, non è breve perché comunque ci sono 14 ore di aereo, però comunque dai, le due cose sono sicuramente due momenti importanti, la Duia è un evento che noi conosciamo da tanto tempo e che si cerca sempre di migliorare per presentare i nostri prodotti, sicuramente questa novità di quest'anno di Tokyo, che è stata una tappa della Merigo Vespucci, che sta portando in giro per il mondo, in questo giro che durerà 20 mesi, le eccellenze italiane, sicuramente è stato un onore per i vini piemontesi, rappresentati logicamente da Piemonte Land, di poter, diciamo, essere presenti agli eventi più importanti dell'approdo della nave a Tokyo. Probabilmente, visto il successo, ci saranno altre tappe che il Piemonte seguirà con i suoi vini della Merigo Vespucci, quindi sicuramente è un modo di andare a casa dei nostri potenziali consumatori, di presentare i nostri vini, molto importante. Cosa completamente differente, invece, è quella della Duia, dove in realtà, organizzando, diciamo, questo evento che raggruppa, diciamo, tutte le grandi denominazioni piemontesi, che ricordiamo oggi essere Ben 61, dove invece cerchiamo di invitare la gente da lontano a venire anche sul nostro territorio, quindi di venire a conoscere, sì, i nostri vini, ma anche di apprezzare le bellezze dei nostri paesaggi. Senta, Presidente, la Duia è una manifestazione di territorio, come ce ne sono tante, naturalmente, in Piemonte, ecco, le denominazioni stanno guardando all'estero, come dice lei, ma anche al territorio. C'è una voglia di riscoprirsi da questo punto di vista? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché diciamo che dopo l'inebriamento dei primi anni 2000, in cui sembrava che il vino piemontese dovesse essere soltanto più venduto all'estero, giustamente abbiamo capito che comunque non si può essere conosciuti all'estero se non si è profeti in patria. Quindi tutte le denominazioni hanno capito che prima di tutto noi dobbiamo rappresentare i nostri territori, sul nostro territorio, dove i nostri vini possono essere ancora più apprezzati, perché oltre ai gusti e i profumi che si possono far sentire in tutto il mondo, in realtà qui c'è anche la componente visiva che è molto importante, quindi Asti è al centro veramente delle colline, del Monferrato, delle Langhe, del Roero e quindi può veramente con pochi passi, con pochi chilometri si può veramente poter gustare anche con la vista le bellezze dei nostri territori. Senta Presidente, approfittiamo della sua presenza per una nota diciamo così più tecnica sui mercati. Si parla di un andamento a macchia di leopardo, è così? Ma in realtà no, è un andamento abbastanza comune per tutti i territori, è una congiuntura in questo momento direi prima di tutto economica, difficile in tutto il mondo, i rincari purtroppo che abbiamo dovuto subire a causa un po' del Covid e successivamente a causa delle varie guerre che hanno fatto innalzare un po' il prezzo di tutte le materie prime, hanno portato a un incremento sì del costo della bottiglia ma soprattutto hanno portato dei grossi incrementi ai costi delle persone che vendono i nostri vini, quindi parlando di Oreca per esempio purtroppo la ristorazione ha dovuto subire grandi aumenti sia dell'energia elettrica che dei costi del personale, che mille motivi che non sto qui a spiegarvi, che purtroppo ha portato un'inflazione abbastanza elevata su quello che è la bottiglia del vino che non è stata coperta da un aumento degli stipendi, quindi è un momento di congiuntura un po' difficile, io non penso che sia un problema di disaffezione al vino perché comunque il vino è comunque sempre un elemento importante della tavola e sicuramente un grande elemento di aggregazione, il problema può essere veramente una congiuntura economica che non va ma noi continueremo comunque a mantenere alta la nostra qualità per essere pronti alla ripartenza. Qualcuno dice si supereranno, i vigneioli l'hanno superato molto di peggio. Ma questo sicuramente, sicuramente. Guardate, io penso che come tutti ben sanno il Piemonte è stata una delle regioni che ha subito di più la siccità delle ultime due annate del 22-23 e quello per noi è stata veramente una grande difficoltà, una grande difficoltà economica. Siamo riusciti a superare questo, la 2024 si prospetta una buona vendemmia sia di qualità che di quantità e sicuramente si potrà andare veramente ad affrontare i mercati nel prossimo anno con un po' più di sorriso, con un po' più di buone speranze. Grazie a tutti.